Salve a tutti signori, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per vedere il rework di Tachanka. E si signori, abbiamo perso il nostro e caro vecchio Tachanka, però ne abbiamo guadagnato uno più forte. Adesso sui server normali non c'è, questo è TTS. Siamo qui con Aluc. Nel video sentirete la mia voce diversa perché ho notato che sul mixer c'erano le impostazioni audio spostate, cioè non le mie, quindi adesso le ho risettate, adesso mi sentite molto meglio rispetto nel video. E niente, detto questo, godetevi il video signori. Togli lo scudo esteso. Non si rifà niente. Prova a tirare una granata in patto a montagne che c'ha lo scudo esteso. Spostatemi, attendo la botola, spaccherò la botola. Spostato un po' lo scudo. Sì, da una botola che... Quanto danno da fatto? Mathematica. Quanta vita hai? 85, quindi. Ok, adesso provo a vedere come cazzo spara sta cosa. Il raggio è 4x4, Ale. Il raggio è 4x4. Minchia, che bel sound che ha. Il raggio è 4x4 e 2-5 secondi. Prova a stare il più lontano possibile. No, non la caricare, non la caricare. Vai. No. Non mi attacca niente. Stai fermo, Blitz, un attimo? Trappalla tutta. Provate a tirare una granata in patto a Blitz. Voglio vedere se si sposta lo scudo. Stai in piedi, Blitz? Stai in piedi? Ok, si è spostato, vedi? Si, ma si è spostato di pochissimo. Adesso tiriamo una bella granata. Ah, 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 ah. Non sei morto. Non se vuoi muoio. Non se vuoi muoio. Non se vuoi muoio. Si, 10pd, 10pd. Come hai usato. Mi non è oppia adesso. Che Blitz? Madonna. Oddio. Prova allora. Io ti colpisco e tu ruota, ok? Vai. Sei lentissimo. Sei lento? Oddio. Aspetta, Rook, dammi un pugno. Rook, dammi un pugno. Aspetti, dico la mia sensibilità. Rook. Rook. È morto. È morto. Allo scudo, allo scudo. No, sto vedendo tu. Sì, non è solo. Io potrei fare così. Ah, che io non ho. Ale, aspep. Eh, anzi no. Noni. Ale, dovresti provare? Dai, cucidelo, dai, cucidelo. Dai, cucidelo, dai, cucidelo. Dai, cucidelo, dai, cucidelo. Porco. Proviamo allora. Sofia, Sofia. No, aspetta, aspetta, aspetta. Sofia, mettiti dietro montagne. Aspetta, metti la carica sul muro. Voglio vedere. No, 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 Sofia, mettiti dietro montagne. E te ti rimettiti 4 davanti a montagne. Entra, entra, d'arte. No, fai nel corridoio. Ok, ok. Fai nel corridoio, se non ci paga tutto. Ok. Mettici 4 davanti a montagne. Addio, Dominic. Ok, non mi ci male. Mettilo bene. Ragazzi, ovviamente è wallbangabile, però. E secondo me ci muoio. Ora non c'è questo. Vai, vai. No, ma che non poteva montare. Oh, c***o. 52 di vita mi ha tolto. A me ha tolto. E qua. Guardate perché, guardate. Perché il pavimento. Non ho da controllarti il vieto. Ovviamente è wallbangabile. Cimini nel... Metti una carta. No, no, fermo, 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 fermo. Non mi rimane, no. Non mi rimane, no, fermo, fermo. Sul muro, sul muro, sul muro, sul muro. Da me, da me! Mettila sul muro. Io vediamo quanto spara. Cosa, zah. Ale, ale, ale. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non cambia un c***o. Vieni qua. Vieni qua. Hai troppa vita. Voglio provare anche... F***. Io ho. Strono. Questo è art attack. No, c***o. Oddio. No, no, no. No, 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 no. Il pilota romano, romano, Andrea De Cesari. Dio c***o. Voglio provare il sistema di redazione se lo blocca pure. Quest'arma la testerò su Clash. Vai, sparami. Ho due melute. Non te vanno. Non si c***o. No, no. Non esiste. Tiranè, due di fila. Allora, aspetta. Mamma mia. Dai, allora, datemi... Datemi una botta. No, togli, togli il melu... Datemi una botta. Ma? Non ci gira niente qua. Allora, Clash, prova ad elettrificarmi. Dovrebbe togliersi... Ma? Tieni, spito. Ma? Sì. Ma vedi, vedi? Sì, poco poco si trova. Oh, eh... Blitz, abbassati. Abbassati. Vedi Ale, Blitz è di più, però. Sì. Non di blitz si scoppa di più. Fai da abbassato. Sì. Ti si può sparare in te. Sì, guarda, Blitz. Guarda, Blitz. Guarda, Blitz. Blitz è morto di più. 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 Vediamo se la spar in cielo se esplode. Sì, sì. No, non esplode. Finché non rimbalza non esplode. Sì, ma tira la dritta, capo. No, e non posso alzare più di tanto la risuola. Eh, verso di qua, versi qua, verso di lì. Tira la, verso il là. Eh, finché non... Stai ferma, Tomic. Ti tira una coltellata dietro. Aspetta, guarda, guarda. Finché non rimbalza non esplode. Minchia, ma non è realissimo. Il lancio a granate dopo un tot esplode. Allora, Mario, metti lo scudo esteso. Io ti metto dietro. Fai esplodere il C4. Facciamo tutti. Andi a montagne. Cazzo. Postati. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Ti parte 5. Io ho perso 45. Vabbè, Ale, rispetto a prima che ti uccideva. Ale, ti resti in pugno. Ale, ti resti in pugno. Ma dove? Ti resti in pugno. Alle spalle. Aspetta. Stai fermo, stai fermo. Una pugnalata. No, non si sposta. Fermo, non si sposta. Fermo, non si sposta. Fermo, non si sposta. No, non si sposta. Ma che succede se lo fai mentre fa l'animazione? Ma che succede se lo fai mentre fa l'animazione? Oh, no, oh! Non si sposta, però. Eh? No, così non si sposta. No, così non si sposta. No, non si sposta. No! Ah, volevo! No! Ma no, non volevo pensare di friendly. No, vai, 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 vai. Non si può prendere. Non si può prendere. Fermo. Eh, gli scudi... Fermo, montagno, fermo, montagno. Ma che c... Cioè, questa... Arbit. Ah, metti il capcan, Dark. L'ho messo, l'ho messo. Vai, vai. Dove? E qui? Qui, qui. E adesso? Adesso. Con lo scudo è steso, eh? Vai, sì. 85. Ah! Ma l'ho capito... Adesso prima ovo se con lo scudo non è stesso. 70. Però non riesco a girarmi, eh? Ma quindi 15 di vita ogni volta? Eh, quanto pare. Micchia, ma toglie molto di meno. Prima toglie al 50. Prendevi solo 8 di danno, dice il dottore. No, ma adesso toglie di più, quindi. Perché le esplosioni... L'anno prima era 85% di armatura, ora 66. Quindi devi... Ah, aveva un po' di danno. 51 di danno è senza scudo, giusto? Alluce, guardami, alluce, guardami. Ale, guarda. Dove sei? Sono taccionata, non mi devi animare. No! Ma? Che troia. Poi c'è... Poi c'è... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dark, devi fare una kill di granata. Comunque pure se ci provi a spostarlo non... Non vale, non vale, non vale, non vale Non vale Non vale Ale, Ale, guarda Ale, tira due tardi uno dietro l'altro Tira due tardi uno dietro l'altro Ragazzi andate davanti al garage Ragazzi andate tutti a noi No, no, vicino, vicino Oddio Attacco aereo Ragazzi venite davanti al garage Vi faccio vedere un easter egg Venite Più grande, guardate Diventa di 5 metri Guardate la finestra Sapete cosa posso fare? Ma sto, ma sto solo io Ti ho chiamato sfigato Ero nell'angolo E poi niente signori Dopo questo punto non abbiamo fatto più niente Che riguardi Tachanka Abbiamo solamente parlato Poi siamo andati su Among Us E niente Mi invito a lasciare un like A condividere questo video E iscrivete al canale se non l'avete ancora fatto Perché manca un iscritto al 150 Signori Scusatemi se non sto più pubblicando come prima Ma la scuola E anche il progetto a cui sto lavorando Vi ripeto Quindi Sto facendo un botto di cose Però Sto cercando anche di portarvi Sempre nuovi contenuti Vabbè signori Vi mando un saluto E ci bicchiamo in prossimi episodi Salve a tutti signori E ci bicchiamo in prossimi episodi